E' quello che fa istruzione, me non mi vedete mai curare perché io sto facendo una cosa che manco insegna all'università, che è la figura dell'odontoiatra informativo. Con le informazioni io posso curare più di 10 pazienti al giorno, con le informazioni, perché le registro, le metto lì e rimangono, ma quelle informazioni salvano le persone delle volte, semplicemente se io dico a una persona guarda se metti la bottiglia d'acqua sul tetto, 48 ore, quella poi dopo la puoi bere, ti ho salvato dalla disenteria, solo con delle informazioni. Oppure potevo fare il medico che ti cura la gastroenterite. La figura degli informatori non pagati dalla casa produttrice è una figura importantissima, che viene sottovalutata in un settore dove c'è molto push economico a quello che poi si diffonde a livello di informazione e di formazione, informazione per gli utenti, formazione per gli addetti ai lavori. Mi sono reso conto che anche io ero ignorante, più andavo avanti più mi rendevo conto che ero ignorante, perché da quando ero in università veniva la Oral-B oppure la Listerin e ci dava i Deplian, dopo ti veniva la Nobel Biocare e ci diceva che quello era l'impianto migliore. Tutti tralasciavano che la protesi è più importante dell'impianto, perché l'impianto è rapidamente commercializzabile.